Qua è cresciuto il BS, va bene, adesso si vede? Ma direi amici adesso si vede? Ok, è un grande gioco Ce la stavo facendo, ho riavviato il livello Ah, ecco dov'era Nel frattempo per controllare il BS ho perso un paradigma di cavalliere Mi pare una cosa corretta Tra l'altro facendo così non c'è stato più il tizio per ridere Forse così ce la faccio a farlo Vabbè, vabbè, vabbè La palla di merda però Sucidate Allora, visto che questa qui voleva essere l'ultima Ma l'BS ci ha fatto questo favore Facciamo l'ultimo attento adesso Questo non mi piace Mi sta a prendere così troppo sto gioco Veloci, saltate sulla sporcenza Dobbiamo arrivare in cima Andiamo 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 Oh miseria, ci fai la torzata Tra l'altro mi stava pure andando benissimo Ah, grazie, solo che se guardavo B.S. mi sono ammazzata, vorrei dire Eh, vabbè Allora Gli direi che questa sera bassa Vedete? Sono tre ore e tre minuti che ci sto trovando Ah, l'ultima trae E ormai sono due ore che dico che l'ultima trae No, no, in questo cazzo di livello l'ha pensato esattamente in persona Molto terribile gelo Uuuuh, questo non mi piace Veloci, saltate sulla sporgenza Dobbiamo arrivare in cima Ho sbagliato arco la fai Allora E, per me faccio Commencio Allora Allora ho fatto il salto di cristo qua l'ho dovuta cade sotto con quel cazzo che non è risolto i problemi di live dei primi ha dovuto chiudere l'installer dell'altro gioco che voglio portare questo non mi piace arrivare al 72 per cento ma spiava al 110 più veloci saltate sulla scoltenza dobbiamo arrivare in cima la mia la mia la mia le riuscate palancopiti registra la mia Grazie a tutti Grazie a tutti Porca troia che danno E' un uomo però mi sono presa sul mago Il mago Sposta leggermente la capocia Grazie Va bene Ecco No, 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 no Buongiorno No, sapete che cosa è successo di strano? E ora ve lo dico che non mi sta facendo perdere la pazienza Il tizio non sta ridendo Non si sente più il tizio ridere Ok, ora è qua Cazzo quasi Cazzo cacca E niente, è fine dei giochi E quel punto lì non lo riesco a calore con questo punto lì Sì, braio, buonanotte vai Mentre i nostri eroi salivano le scale Un freddo terribile gelò le loro ossa Questo non mi piace Questo individuo qua Dobbiamo arrivare in cima Va bene, si comincia da giù del merda Sì, va bene, non ho detto che faremo anche il corto basso Senza Adesso la lavare Si raccomanda Se ci riesce, ci riesce, ci riesce Veri? Mamma mia Esatto terribile gelò le loro ossa io sto credendo questo c'è la mano del mouse tutta su casa non ci riesce bravo e' un problema di sicilia dobbiamo arrivare in cima e' vabbè ma dai ma lo riesco a fare il cazzo di salto pesi sapete pesi 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 Perchè il santo dovrebbero andare? ah che cazzo ho fatto questo coso moda quant'era il buco lì c'è il buco non c'è un altro non c'è il buco non c'è il buco non c'è il buco non c'è non c'è il buco 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 ma proprio grazie 3 quanti vabbè proprio la pozione è rasseggiata vabbè non c'è non c'è il buco non c'è il buco non c'è il buco non c'è il buco ok ci siamo oh e questo dovevo uscire oh ma ancora qua stai ma chi sei lo scheletro qua su non c'è stato mai ragazzi non c'è no no devo provare a saltare il vasco non la devo fare la cosa e vabbè la devi far domani intendo io sono questo livello allora io ho giocato tranquillamente abbastanza tranquillamente buonanotte io ho giocato abbastanza tranquillamente fino a questo livello ma questo livello l'ha pensato satana in persona non è possibile tu calcola che io e lui ho fatto la seconda live e sono arrivata qua e trai e va bene danni gratis e va bene danni gratis ok 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 è un bellissimo gioco ma a suo livello l'ha pensato satana non è possibile ok 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 è possibile anche ok 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 Va bene No vabbè Ah è già scesa la palletta Perché non vai avanti Patta furiosa Mago pure meno vero Ah quello è sempre il genio d'assorzio Andata Sì vado C'è un po' poi più attenzione Grazie Vabbè dai Eccola dove spunta Questo schede Quello che non abbiamo mostrato Grazie Ci hai pensato tu Molto giuntile Ora via No vabbè ma che Uh forse ho capito una cosa Forse ho capito una cosa Però no la lava così sotto No E va bene Tutti i pesci non ce la faccio Supera sotto No raga io non ce la faccio Per questo pezzo Questi punti mobili Del cazzo Porta troia No raga io non ce la faccio Udirono la voce No nintendo la cosa è questa Come ho scritto in descrizione sotto Scusa se ti rispondo dopo Ma ero un ottimo concentrato Non so neanche se ci sei ancora Comunque come ti ho scritto nella descrizione giù Avendo avuto situazioni un po' particolari Io mi sono persa tanti giochi Quindi questa è la prima volta che io gioco a Trine E ovviamente sono partita dal primo Ieri mi ci sono fatta 6 ore di live Manco me ne sono accorta Io l'ho giocato solo in live Ho guardato l'orlogio A un certo punto eravamo le 4 del mattino Eravamo rimasti io pivish Solo che poi siamo arrivata qua E niente I risultati dai vesti Mi stucco sempre lì Prima mi stuccavo pure prima Adesso sono riuscita ad arrivare Quindi ma lì mi stucco Poi una cosa che trovo profondamente injusta La cosa che questo gioco E' che comunque tu negli altri livelli Anche se non avevi il mago Che tipo era morto il mago Potete andare avanti con la ladra Poi invece ti servono necessariamente tutti i 3 E non si sa come non ho preso danno nessuno Che in realtà O mi fai tutto il gioco così Non mi puoi far solo su livello così Insomma Lo trovo profondamente Ingiusto Secondo me è la becca L'arcatroia Va bene C'ho la ladra che è praticamente morta Il gioco che citta Perché mi ha portato già da quella Ma tanto dove andiamo Che non c'è più attiva la ladra Che cosa l'ha fatto Che cosa l'ha fatto il muro Ma si è bugato proprio Il cavaliere me l'ha messo molto bene Sì ma Capisco tutto quello che vuoi tu Però o mi metti Che uno degli NPC Può arrestare con le pozioni di cura O me lo metti in punto di controllo Perché io non posso finirlo Praticamente a livello Senza la cacchia di mana Che cazzo è vero di questo Se proviamo Ci ha portato qui su Ha bugiato tantissimo Niente Il gioco Sta dicendo Dai Eh vabbè però Prima se mi vado in sala Nelle cose da sola Ce l'avevo quasi Tatti Tatti Alzati Vieni Che stavi pensando E va bene Due Adesso ho capito che io dovrei arrivare qua E dovrei uccidere quello con la lavra Che non ho più E va bene Va bene Siete fantastici Siete meravigliosi Eh vedi Io non li posso riportare in vita Qua Eh vabbè Mettere molto quasi Pure il nonnetto Qua Ok Eh ma là come cazzo si fa Della mia amica No 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 Sì Basta ragazzi Un po' ho voluto bene Ma sono tre ore e mezza Che è tutto il stesso livello Non ce l'avevo fatto Direi che fa un monride a qualcuno Un po' ho voluto bene Grazie a tutti